eccellenza ricordiamo armida barelli una donna che ha gettato le fondamenta dell'azione cattolica oggi lo ruolo della donna è sempre più centrale anche per ricostruire e ricominciare una un'azione che possa essere concreta per la società secondo lei qual è il messaggio della barelli che dovremmo portare avanti come società tutta anzitutto santo padre giustamente sottolinea il fatto che è venuto il tempo veramente che la presenza delle donne nella chiesa abbia un ruolo maggiore di quanto è stato finora da sempre esse hanno costituito un aspetto decisivo della vita delle nostre comunità però occorre proprio metterle al centro anche come ruolo di guida in modo che noi possiamo cogliere quelli che sono i valori profondi della dimensione anche materna della chiesa e femminile ed è un dono particolare armida barelli in questo è una direi un capostipite ecco dell'impegno di una donna all'interno della chiesa ma più in generale verso tutta la società un cammino della chiesa che voglia essere un cammino che incontra veramente le persone non può non guardare a queste figure come centrali